Il maschio angioino sullo sfondo, in primo piano, i cassonetti stracolmi di immondizia di ogni genere. Nella Napoli, che ospita la prima tappa del Giro d'Italia, non ci sono novità sul fronte dei rifiuti. Sono dappertutto, invadono il centro e i quartieri periferici, dalla collina al mare, si accumulano i bordi delle strade sotto gli occhi stupiti dei turisti. Con l'arrivo del caldo la situazione peggiora, i cittadini sembrano rassegnati a un'emergenza senza fine. La pessima figura che facciamo per gli altri, i turisti che vengono qui per tenere tutte queste immondizie. Ci sono rifiuti speciali che vengono smaltiti assieme ai rifiuti comuni, per cui a questo punto chi controlla i controllori. Nei cassonetti c'è di tutto, dalla carta ai mobili dismessi, compresi i pensili e sedi abbandonati. Da Napoli a Caserta, qui il neoministro dell'ambiente Andrea Orlando ha visitato la discarica di smessa soggeri a Castelvolturno e il sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti in località Foro Boario, nel comune di Maddaloni. Qua c'è una delle più gravi ferite, che non è soltanto ambientale, sociale e economica, in una delle terre più belle del paese. Credo che sia dovere delle istituzioni stare vicino a chi, e sono molti in questo territorio, si sta battendo per il riscatto. Orlando ha visitato anche la nuova cucina organizzata, il ristorante di San Cipreno d'Aversa Presidio Antica Morra, dove ha incontrato cittadini e associazioni impegnati nelle tematiche ambientali, come il gestore Peppe Pagano e padre Maurizio Patricello, parroco del Parco Verde di Caivano, in prima linea nella battaglia contro i roghi tossici di rifiuti.